È un'iniziativa che si farà notare sabato 19 maggio in città, quando i campanili di una decina di chiese suoneranno uno dopo l'altro dalle 16.30 alle 19.30 in occasione della grande festa di Pentecoste. Durante la presentazione in comune alla presenza dell'assessore Briani, i responsabili hanno illustrato l'iniziativa che richiama anche tra i campanari stessi e il pubblico l'interesse di molti giovani. È una suonata itinerante fra vari campanili del centro storico che da una parte intende solenizzare la festività di Pentecoste, dall'altra porre in risalto il patrimonio artistico costituito dalle campane della città, che è veramente fra i più interessanti a livello nazionale. Quali chiese toccherete? Toccheremo San Giorgio in Braida, Santa Maria in Organo, San Giovanni in Valle, quindi anche circuito Verona-Mino-Ierusalem, San Tommaso, San Nicolò, Cattedrale e Sant'Anastasia. E anche Torre di Lamberti, che è Torre Civica. Da chi ha organizzato questo evento? Da noi della Scuola Campanaria Verona, in collaborazione con l'Associazione Suonatori di Campane e con la Verona Minori Jerusalem, che ci dà un supporto logistico per le prime tappe del percorso. Le suonate saranno anticipate da un incontro di presentazione dell'evento alle 16, sempre sabato, a San Giorgio in Braida, prima dei concerti solenni delle campane che saranno suonate con il sistema veronese. È un sistema tradizionale di suono a concerto, nato poco più di due secoli fa a San Giorgio in Braida, poi si è sviluppato in città e in diocesi principalmente. Ed è una tecnica di suono che permette di fare musica con le campane, con la rotazione completa a 360 gradi e di eseguire delle partiture con le quali si solennizzano le festività principali ed è un suono diverso naturalmente da quello feriale. Noi siamo coinvolti perché l'associazione Realtano Profit è composta da 80 squadre, una di queste è chi organizza i festeggiamenti per la Pentecoste. Cosa vuol dire essere una suonatrice e un maestro campanario? Beh, innanzitutto vuol dire essere una persona solidale, perché noi nel nostro piccolo ci prendiamo cura di un bene comune quali sono le campane, teniamo in ordine i campanili, facciamo promozione per l'arte campanaria e parecchi giovani fanno parte della nostra realtà. Una grande passione innanzitutto. Molto. Io ho iniziato il tempo che fu e le campane hanno riempito la mia vita.